La Raffa Vene La Raffa Vene La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. Ma la libertà non è solamente un diritto che si reclama per sé. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. Grazie a tutti Grazie a tutti